La battaglia per le bestie primordiali entra nel vivo e vi posso dire che questo per alcune cose forse sarà il mio capitolo preferito in assoluto di Dragon Ball Akai che abbiamo discusso finora. Benvenuti o bentornati su Dragon Ball Akai e su Red Saiyan, il canale dedicato a Dragon Ball. Oggi continuiamo a parlare di questa serie che ha fatto innamorare moltissime persone, devo dire, e continuiamo il nostro viaggio tra le bestie primordiali arrivando anche a dei picchi assurdi per quanto riguarda uno scontro in particolare. Io direi quindi che possiamo cominciare e partiamo subito da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Dopo aver individuato la bestia primordiale dell'universo 6, Goku insieme ai due Kaioshin del suo universo decidono di dirigersi nella sua posizione. Tutti e tre pensano di essersi teletrasportati di fronte a un pianeta, però di fronte a sé non vedono assolutamente niente. Una volta che si avvicinano però si rendono conto che cambia tutto. Appena si avvicinano infatti vedono tutte le montagne e natura di un pianeta. Ovviamente si chiedono cosa sia successo e il Kaioshin spiega che quello è il pianeta Kamaleonte. Un pianeta che venne creato proprio dal supremo Kaioshin dell'universo 6 per nascondersi e per nascondere anche la bestia primordiale chiamata Iru. Ovviamente Goku si chiede se i Kaioshin si sono impegnati così tanto a nascondere le bestie primordiali, allora mi viene da pensare che siano estremamente potenti. E il Kaioshin fa presente che poco prima gli aveva detto che i maghi oscuri sono i più forti degli dei della distruzione, ecco, le bestie primordiali molto probabilmente superano addirittura la forza di uno di questi maghi. Di fatto se una di queste creature dovesse risvegliarsi vorrebbe dire la fine dell'universo. Queste bestie primordiali non sono altro che l'incarnazione della fine dei tempi. Proprio parlando di questo ragazzi ci spostiamo all'universo 11 dove c'è una battaglia in corso, una battaglia che al momento ha già distrutto più di 180 sistemi solari. E in questa battaglia i protagonisti sembrano essere Belmod, il dio della distruzione dell'universo 11, e il futuro dio della distruzione, ovvero Toppo. I due insieme alla pattuglia galattica stanno provando a sconfiggere quello che sembra essere un vero e proprio demone. È facile pensare infatti che sei una bestia primordiale. Hai il logo Majin sui vestiti e sembra un Majin Bu un po' diverso, con però due antenne. Ha sconfitto gli altri membri della Pride Troops e ora è pronto ad andare contro i due dei. Dei tra virgolette, perché abbiamo Toppo che non lo è ancora e lo dimostra anche per indole. Difatti si lancia contro l'avversario, ma Dips gli viene lanciato addosso e quindi viene messo fuori gioco anche lui. Questa bestia primordiale sa benissimo di essere estremamente forte, si vanta col dio. Dio che deve iniziare a fare dei conti perché tutti i membri della Pride Troops sono morti, mentre invece Toppo e Dips ora non sono più in condizione di combattere. È rimasto solo ed esclusivamente lui. Come molti di voi staranno pensando, c'è un altro Mendel Bember della Pride Troops che ancora non ha fatto la sua apparizione. Mentre Belmod si prepara ad utilizzare tutta la sua forza della distruzione, sentiamo Jiren il grigio che dallo spazio urla Calimor, il nome della bestia primordiale, e si fionda impicchiata verso il pianeta dove c'è lo scontro. Mostra attenzione ragazzi però si deve spostare nuovamente, torniamo nell'universo 7, torniamo allo scontro di Vegeta contro Cooler. Lo scontro sembra essere diventato molto interessante, ma Cooler dice non mi prendere in giro. Io so benissimo che tu nascondi almeno un'altra trasformazione, e non voglio farmi ingannare come prima, in cui penso di vincere e poi ti trasformi all'ultimo per colpirmi. Infatti riesce ad avvicinarsi al suo avversario e con un colpo ben assestato sul fianco di Vegeta riesce anche a farlo sanguinare, sia nel punto in cui è stato colpito che dalla bocca. Finalmente quindi Cooler sembra aver veramente messo in difficoltà il suo avversario, che però per rispondere prende Cooler dal braccio e si prepara a un colpo che già dalla posa noi conosciamo molto bene. Difatti anche Cooler si rende conto che quella non è un'energia normale che sta caricando Vegeta. Vegeta prepara la Kai, una Kai che serva proprio a distruggere finalmente completamente il suo avversario. Il colpo è devastante, distrugge anche il pianeta che era dietro allo scontro, però ragazzi Cooler è sopravvissuto, molto nervoso perché era vicino alla morte e finalmente vediamo anche la sua nuova forma. Cooler si presenta di fronte agli occhi di Vegeta nella sua forma dorata, forma che a quanto pare ha appreso durante lo scontro e l'allenamento anzi con suo fratello. Tra l'altro fratello che ora è impegnato a discussione proprio con Pai Kwan, che vuole riavere ovviamente Janemba, la bestia primordiale. Freezer però ovviamente si rifiuta, ma i due vengono interrotti da questo dialogo proprio dal fatto che qualcuno ha aumentato a dismisura la sua forza e deve essere ovviamente Cooler. Freezer lo riconosce e dice Ah, quindi mio fratello ha già utilizzato la sua forma golden? Beh, sarà il caso di fare qualcosa anche io. Freezer infatti, proprio per non essere da meno, decide di utilizzare a sua volta la sua forma dorata, che presenta di fronte agli occhi di Pai Kwan, dicendo Eh, non è male, è vero, meglio di mio fratello. Tra l'altro Freezer rivela anche che lui voleva mostrare la sua nuova forza, essendo che anche lui adesso si è potenziato moltissimo con gli ultimi allenamenti che ha fatto con suo fratello, giusto per ucciderlo se si fosse ribellato contro di lui. Quindi, in poche parole, Freezer ovviamente si trasforma e trasformandosi, diciamo, che lancia il guanto di sfida verso Pai Kwan e anche lui quindi si prepara a combattere. Nati ai pianeti Queen, che sono, diciamo, l'habitat perfetto per uno scontro come quello interplanetario tra Vegeta e Cooler, vediamo che Vegeta inizia effettivamente a essere un po' in difficoltà. Lo scontro, però, non può andare avanti per molto. Cooler, infatti, nonostante sappia benissimo, come anche Vegeta sa e sottolinea che lo scontro non può durare molto e che Vegeta perderà sicuramente in quelle condizioni, dice comunque che quell'energia utilizzata prima, la Kai, era veramente qualcosa di incredibile, un potere che potrebbe tranquillamente sorpassare il suo. Una forza di cui lui adesso è interessato. E Vegeta sapete cosa gli risponde? Beh, quella tecnica l'hai trovata spaventosa? Ti interessa? E allora non vedrai l'ora di vedere questo. Forza della Kai inizia a coprire il corpo di Vegeta. I capelli cambiano colore, i suoi occhi cambiano d'aspetto, ovviamente sopracciglia vengono tolte e compare anche il famigerato orecchino. Cooler ha l'onore di trovarsi di fronte alla più grande e più potente forza di Vegeta, l'ultraego. E siamo pronti a vedere lo scontro tra Cooler in golden form contro Vegeta in ultraego. E ragazzi, ragazzi, l'episodio di oggi finisce qui. Lo so, lo so, finisce sempre sul più bello, ma chiaramente è così che funziona la narrazione, la narrativa. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro episodio di Dragon Ball Kai o forse tra qualche giorno, ora non ricordo, ma comunque questo canale ha contenuti giornalieri, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo episodio, lasciate mi piace se volete continuare a vedere questa serie e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Fate i bravi, ciao a tutti ragazzi! Grazie!